buongiorno e buon pomeriggio buona giornata e buon inizio di settimana questa è la prima ufficiale di ottobre in questo lunedì 5 ottobre 2020 alle ore quasi alle 12.10 ci avviciniamo all'ora di pranzo ma veniamo a parlare di dell'evento speciale pay per view anzi tech cover 31 di nxt che ha visto il come dire un doppio debutto del performance center ma non più in performance center ma in capital wrestling center ora così si chiamerà capital wrestling center adattato più o meno tipo roster principale ovviamente sempre a misura di sicurezza anti covid sia con i fan fisici presenti di persone che collegati via zoom secondo me è un'innovazione molto bella bisognerà capire per voi smithdown cosa succederà dopo questo mese se sarà prolungato il contratto con l'an white center o meno ma veniamo a dare i risultati al mio commento sui match lo show si è aperto con damian prius contro johnny gargano apertura di di tech cover abbastanza buona damian prius alla meglio su johnny gargano che non solo il protagonista di questo match ma anche nella sfida tra kendish larrey sua moglie nella vita reale yoshi rai comunque come ho detto appunto damian prius vince in 18 minuti e 39 secondi seconda sfida abbastanza molto tecnica uscì da suon di sottomissione vince proprio via sottomissione batte velvet in dream in 13 minuti poi quello che secondo me è stato il match più bello dello show santo sesco bar detto anche elio legato del fantasma con giochi in wild e raul mendoza campione nexti dei pesi leggeri contro isa e sward scotto i due hanno dato vita cari amici ad una condesa formidabile straordinaria eccezionale veramente santo sesco bar difende con successo il titolo in quindici minuti e quattordici secondi poi come vi dicevo nel premio in eventi yoshi rai ha la meglio su kendish larrey mantiene il titolo femminile di nxt in 16 minuti e 45 secondi però c'è da considerare che poi una volta che c'è la classica scena le due combattono anche l'arbitro ci va di mezzo va a terra poi esce gargano vestito da arbitro dalla cindura femminile di nxt in a sua moglie kendish che colpisce senza che l'arbitro veda niente che uscirà con la cindura ma non vince dopo il match poi c'è toni storm che colpare che compare dal titan tron che si pronuncia come collega potrebbe essere una possibile nuova sfidante di uscirà però finalmente si è scoperto la figura misteriosa che si nascondeva nel promo da un paio di settimane e non è nebo dallas ne ovviamente robert rude ma parliamo di amber moon che quindi speriamo che con il rientro in patria di nxt possa ritornare protagonista visto che a royal smackdown purtroppo non c'è stato non c'è stato non c'è stato modo per metterla in luce nel mio evento fin baller batte calio riley e mantiene il titolo massimo di nxt in 28 minuti e 28 secondi match bello a tratti anche hardcore visto che fin ballo si è ritrovato con il labbro sanguinante ma poi quanto è successo dopo anche interessante con holland che l'ho avviso forse c'è stato un momento di blocco non so se sarà così anche l'arrivo l'arrivo di tutta l'undisputed ira ho visto forse c'è stato un momento di blocco non so se sarà così anche il video comunque niente stavo dicendo che appunto fin bello era mantenuto il titolo massimo di nxt battendo carlo riley e dopo il match holland ha forse colbito che aveva magari colbito nel becchio stage adam cole trascina appunto sulle spalle con una pelle di dano lo stesso adam e poi arriva tutta l'undisputed ira quindi che dire takeover abbastanza buono positivo miglior match per me è stato santo sesco bar contro i 6 a sverbo sconto quindi prossimo evento speciale per la dubbio sera domenica 25 ottobre con alina sa tra cui viaggiano è stato reso ufficiale roman rens contro geuso nella gabbia infernale per il titolo universale ed inoltre il ben il 28 ottobre quindi in previsione di alcovin ci sarà la puntata speciale di nxt e chissà che anche lì non vengano messi in ballo i titoli io vi ringrazio noi ci vediamo ai prossimi video di nuovo buon proseguimento di giornate alla prossima ciao ciao